Bella ragazzi bentornati qui sul canale di Kronanas Bella E siamo oggi qui con una nuova sfida Una sfida un po' particolare Ed è Indovina la parte del corpo Yes Praticamente noi ci benderemo Faremo a turno Una volta il band giù Una volta si benda lui E l'altro dovrà far toccare con questo dito Con l'indice O con questo Se lo metti al culo Eeeh Esatto Con l'indice Dovrà far toccare l'altro una parte del corpo Ovviamente non è che Cioè per esempio Che ne so Se devi dover far toccare il piede Dove ci tocca qua Così non ci abbiamo riferimenti E non capiamo dove è veramente questa parte Niente Facciamo un insieme Facciamo che ne so Un po' per uno Sì Facciamo così Veniamo il posto Vai vai Dammi il ditino Eccolo Fai tocca bene Che cazzo è oh Che è sto schifo Ma che è la lingua Non è la lingua Che cazzo Ma quale lingua Rifai No no non capisco E' tipo lo che è il mento No Il gomito No E' qua No Che cazzo è Sono tipo No che era Ma no Non so che schifo Ma c'è stato troppo brutto Perché sembrava Stato qualcosa di umidiccio Capito Non capivo che cazzo era Che schifo La lingua Perché è la sudata Vai Vai No No Sbrigati Ginocchio Ammazza che cazzo Non so troppo forte Vabbè Dopo lo faccio più difficile Vai Oh Non ci provare No Aperta la bocca No Che è la pronte Bravo Daglie Comunque no La cosa brutta E' che c'è C'è il terrore Si Che mi ha toccato Qualcosa di brutto Mamma mia Vai Chiudi Cazzo Vai Chiudi Che cosa Cazzo Dai Che schifo Che cos'era Che cos'era Dag Mamma mia Dammi sto coso Era antistress Sì Era antistress Era antistress Allora Avevamo puri fame La guancia No Lavambraccio Che cazzo Ma che sei Ma che cazzo sei Un coso Un Un medico Oddio che cos'è questa Ma che cos'è Ah sì Io so Quale Quello C'è Tra i tu di Del panno Dalla mano Vaffanculo Un tipo Pensavo che era la bocca Ma hai preso uno schifo assurdo Sembrava tipo l'angolo della bocca Ho detto no che schifo Non voglio Tranquillo Tranquillo No prima di là Che cazzo è Ma che cos'è Che cos'è A mano A mano A mano A mano Eccola Eccola Che guancia Che cazzo È il sottopalla È il sottobocca Che cazzo è Ma che cos'è Questo schifo Ma che cazzo Ma che schifo Ma tu metti da me nel naso Ma a me era nel naso Era qua era Sì ma senti una cosa in molliccio Vai Venda Ma mi alzo io Stai attento Che schifo Che cazzo No è una mutanda È sopra il culo Sì Mi sono pure abbassata Che cazzo I pantaloni Vabbè tu mi hai fatto toccare la tua palla Che schifo Vabbè dai c'era la mutanda C'era il pantalone Non mi fido mai da te sto cazzo di dito Che è il mento La barba Sì proprio quella Ah no Diciamo che stai due metri su AIA Non è la coscia Lo faccio Sì cazzo Che cazzo Coglione Ma sai che pelli che c'ha io Vabbè Pelicubici Che è sto schifo No no che cazzo fa L'ho capito subito Io ho pensato al proprio da mano Poi ho detto L'ho già maledato La vuoi essere solo quello No Schifo Tieni vai Dai Che cazzo Che cos'è Collo Vabbè però se vai in tiro Vabbè uno deve sentire Dammi il dituzzo va Ma che schifo che è sotto il piede Mi sta piacchettitando Oh che schifo Io ce rimanevo pure capito Che schifo no Dopo mi è tornata a disinfettare A te Porco tu Guarda No disinfettare Disinfestare proprio Disinfestare Vai Ultima Vai Questa è l'ultima Già che ti sei arzato non va bene Mento Ma che schifo Allora Se vi è piaciuto sto video Lasciate 3.000 like Che stanno Sì aspetta Presta una mano E facciamo un altro episodio E magari Vediamo anche qualche altro youtuber Yes Se noi ci vediamo Alla prossima Se non mi piace Se vi è piaciuto Guardate tutti i link in descrizione C'è la pagina facebook Mi raccomando Fateci salire sulla pagina facebook Non ci vuole un cazzo Cliccate sulla pagina facebook E vi iscrivete In descrizione E commentate con l'ospite Che vorreste con questo video Ok Io Quindi Ci vediamo al prossimo video Bella Bella